Allora, buongiorno, sono qua per parlarvi ancora di OM Motor Cycles, mi sembra abbastanza accattivante e abbastanza vintage, d'accordo, alla ragazza che mi sta filmando e della quale vedete l'ombra, mi sta anche salutando, a lei piace tanto, però facciamo anche due parole, visto che sono un po' le prove di OM, due parole sull'abbigliamento usato. L'abbigliamento usato è vintage e abbiamo voluto riprovarlo dopo tanti anni. Giacca Interstate, seconda generazione della Clover, hanno più o meno 2.000, alle spalle una ventina, 30, 40.000 km, no, solo di via Giocapo Nord ne ha 10.000, fate il conto degli altri, Marocco, fuoristrada, Centro Italia in fuoristrada, Via del Sale, ne ha fatti di tutte, jeans di moto infinito, che questi bravissimi ragazzi non producono più con grande dispiacere degli appassionati, con protezione di 3.0, insomma, ragazzi, avevamo fatto un bel lavoro. Stivaletti dell'Alpinestr, ancora degli anni 90, guardate le condizioni, stanno andando alla grande. Abbiamo voluto riproporvi qualcosa di vecchio per dirvi che tante aziende italiane hanno fatto dei prodotti meravigliosi che ancora adesso si possono usare. Magari li trovate negli armadi dei vostri zii, cugini, padri, amici e vanno ancora bene. Bo, voce fuori dal coro. Seguiteci ancora con UM. Ciao!